Arte, cibo e turismo. È la manifestazione che si è tenuta a Rogliano, in provincia di Cosenza. Una prima edizione che si è svolta tra le viuzze della parte storica del comune della Valle del Savuto, che ha visto coinvolte eccellenze enogastronomiche e artisti locali, dando anche la possibilità di visitare luoghi storici. Questa è la prima edizione ed è un'edizione a livello nazionale. Cerchiamo di tutti di attrarre molti turisti con i prodotti locali, con le attrattive locali, che sono oltre il pane di Cuti, oltre l'associazione Rocciatori, e più abbiamo realizzato i famosi ombrelli fluttuanti. E qui, proprio in piazza dove sono io, sul balcone sulla mia testa, si affacciò Garibaldi, per cui è un luogo anche della storia. A parte la storia e il suo stand, che cosa offre? Allora, io rappresento l'azienda del panificio Cuti, quindi è un'eccellenza del territorio. Questo pane è fatto come vuole la tradizione, farina 0, 1, macinata a pietra e cottura in forno a legno. Quindi qua troverete quelli che sono i nostri prodotti, dal pane bianco alle frese, ai taralli, alle freselle, ai ciabattoni, alla riganata. Quindi ogni sera avremo una degustazione a tema e stasera inizieremo con del semplice pane olio, una sorta di insalata fatta con i coriandoli delle freselle, insieme ai peperoni e alle cipolle, e poi la fresa kunzata, che è una caratteristica tipica di questo territorio. E cos'è la fresa kunzata? Allora, la fresa kunzata è una fresa che viene leggermente imbevuta di acqua, olio, aceto, strofinata con dell'aglio e dell'origano. Questa prima edizione di arte, cibo e turismo ha accolto anche l'Associazione Nazionale Rocciatori, dando la possibilità ai più piccoli di svolgere l'attività del tree climbing. Qualcosa di estremo, sì, effettivamente portiamo una nuova disciplina che è il tree climbing per bambini, quindi è anche l'impatto che hanno loro direttamente con l'essenza vegetale, con la natura e con gli alberi, che è importantissima rispetto ad altre discipline come potrebbero essere il climbing su pareti rocciose. Se lo fanno i bambini la possono fare anche i grandi? Assolutamente, noi lavoriamo in sicurezza, noi ci occupiamo di formazione per quanto riguarda la sicurezza, quindi tutto quello che può vedere nello stand è tutto normato, tutto verificato, tutto regolare, insomma. L'arte, cibo e turismo è stata realizzata grazie al contributo di numerose associazioni, a partire dalla CNA di Cosenza, l'Associazione La Fontana, quella dei Rocciatori e l'Associazione Cuochi della provincia di Cosenza.